L'incidente frontale è avvenuto poco prima delle 23 ieri sera al chilometro 254 nella strada statale 16 all'altezza del ponte Metauro. Tre sono le vetture coinvolte tra cui una Golf guidata da un ragazzo nato a Fano, una Volkswagen Maggiolone guidata da una donna nata da Sisi e una Hyundai Tucson nel quale erano presenti due persone a bordo del veicolo e un uomo del 77 nato a Chiaravalle. Sono in via di accertamento le dinamiche causate dalla collisione dei veicoli. Tre persone sono rimaste levemente ferite, nessuno in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso e trasferito tutti e quattro le persone coinvolte all'ospedale di Fano per i controlli. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per i rilievi di legge, comportando l'interruzione della circolazione dei veicoli nel senso di marcia. Grazie a tutti!